Allora, partiamo con la diretta di oggi che sarà sul prendersi cura della vagina. In realtà in questa diretta vi farò una sorta di recap di tutte le cose che ci siamo dette più e più volte, quindi tutte le abitudini scorrette che possono predisporci all'aumento di infezioni piuttosto che... quindi è importante sapere cosa non fare per poter tenere l'ambiente vaginale il più in salute possibile. Il più in salute è possibile, ok? Ci sono tante cose che comunque, come vi dicevo, abbiamo già visto, che comunque in questo video volevo rielencarvi in maniera tale da, insomma, permettervi di vedere se fate tutto bene o meno, ok? Allora, intanto l'ambiente vaginale, premessa, l'ambiente vaginale, come già sapete, è un ecosistema abbastanza complesso, nel senso che ci sono batteri buoni, batteri cattivi, la vagina non è un ambiente sterile, no? È un ambiente dove all'interno c'è un equilibrio, come dicevo, abbastanza complesso e questo equilibrio bisogna cercare di mantenerlo il più possibile per far sì che l'ambiente vaginale sia sempre sano, ok? Che non ci siano infezioni, che non ci siano irritazioni, disturbi o altre cose, eh? Quindi è importante cercare di lavorare su questo, hm? Ci lavoriamo in un sacco di modi, quindi partendo da quella che è l'igiene intima, ok? Tante donne, spesso le vedo anch'io, no? Arrivano dicendomi, ah ma Alba ho un cattivo odore, quando poi in realtà il cattivo odore non c'è? Allora, la zona vaginale è una zona autopulente, quindi fa tutto da sola. Lei si pulisce, butta fuori, ok? È una zona del nostro corpo che tende a pulirsi da sola e ad avere delle secrezioni che sono assolutamente fisiologiche. Queste secrezioni possono non essere sempre uguali, nel senso che abbiamo visto che durante il periodo dell'ovulazione cambiano, aumentano, diventano un pochino più filamentose. Insomma, hanno un aspetto e un odore, ragazze, che deve essere quello, ok? L'odore è quello praticamente sempre. Ovvio che quando ci sono delle infezioni, soprattutto alcune, che danno un aumento dell'odore, insomma, danno davvero un cattivo odore, in realtà li ve ne accorgete, ok? Quindi una delle cose che mi sento di consigliarvi è intanto valutate assieme a qualcuno, che si possa essere anche il vostro partner, cioè, ma mi senti che puzzo, ok? Per capire un attimino, no? Se la percezione è soltanto vostra o in realtà è anche degli altri. Perché comunque, come dicevo, l'odore delle perdite vaginali è caratteristico, ed è quello, è sempre quello. Cambia soltanto nel momento in cui c'è un'infezione, ok? Può essere, oppure un'alimentazione particolarmente scorretta, ok? Quindi può esserci un aumento di queste secrezioni, una variazione nel colore, una variazione nell'odore, questo sì. Però comunque le vostre perdite fisiologiche, normali, non cercate di eliminarle. Perché comunque ci devono essere e servono per far sì che l'ambiente vaginale rimanga in equilibrio il più possibile. Quello che spesso le donne fanno è, oh no, troppe perdite, lavande su lavande, su detergenti, su roba profumata, profumi, deodoranti. Quindi, in realtà, come vi dicevo già altre volte, queste sono tutte abitudini scorrette per la zona vaginale, ok? Perché il film protettivo, piuttosto che i batteri buoni, voi in questo modo andate a portarli via. Cioè, la lavanda vaginale mi sta bene se c'è un'infiammazione, quindi delle perdite molto molto importanti, delle quali vogliamo sbarazzarci, ma non da fare regolarmente perché mi danno fastidio alle mie perdite. Ok? Quindi, se le perdite sono fisiologiche, cercate, ecco, più che di mandarle via, di riconoscerle, di riconoscerle e dire, sì, ok, sono le mie, oh, sono le mie, ok? E cercare di riconoscere, di capire quando c'è qualcosa che non va, quindi quando è il caso di rivolgersi a qualcuno, ok? Questo. Quindi cercate di non lavare eccessivamente la zona intima, questa è una cosa che ci siamo già dette tante volte, i lavaggi non dovrebbero essere più di due al giorno, se riusciamo ad utilizzare una volta solo il detergente è ancora meglio, l'acqua possibilmente non troppo calda, questa è una cosa che vi avevo già detto, questo perché il calore e l'umidità tendono ad aumentare il rischio della proliferazione di batteri, funghi e altre bestiacce di vario genere, no? Quindi cerchiamo di rispettare in questo senso l'ambiente vaginale, cercando di non pulirlo da quello che in realtà è la fisiologia. Leggevo, adesso per prepararmi alla diretta, sono incappata in un articoletto di questi che si trovano su internet, che dice, se sentite cattivo odore spruzzatevi del profumo sull'inguine. Ho detto, ma come? Cioè, vedete come internet può deviare, non si fa, ok? Questa è una cosa che ci siamo già dette, è una cosa che non si fa, ok? Che l'inguine non è la vagina, quindi non lo mettete magari direttamente lì, però ragazzi non si fa, ok? Il detergente deve rispettare il pH vaginale, questa è un'altra cosa che ci siamo dette tante volte, la donna fertile, che quindi ha ancora un'estruzione, ha un pH vaginale acido. Il pH vaginale acido di solito lo trovate, vabbè, sui detergenti c'è quasi sempre scritto 4,5, 3,5 comunque, quindi questo è il pH che ha la donna fertile, che quindi il detergente intimo dovrebbe avere per rispettare quella che è la fisiologia. La donna in menopause, anche la donna in gravidanza, in realtà hanno un pH un pochino diverso, che in questo caso per la donna in menopause diventa neutro, ok? Quindi anche lì il detergente bisogna adattarlo a quelle che sono le esigenze di quel momento, ok? Anche durante la mestruzione tende a cambiare un pochettino il pH, ok? Quindi bisogna cercare di rispettare, come dicevo, la fisiologia di questa zona, non cercare di liberarsi delle perdite piuttosto che, ok? Ma di cercare di capire se sono normali oppure c'è qualcosa che non va, ok? Anche lì l'utilizzo dei salva sleep, ragazze, io lo sapete, non li amo particolarmente, ma i salva sleep in origine sono stati inventati per raccogliere le perditine da inizio e fine ciclo, pariti di sangue, cioè il salva sleep messo tutti i giorni in realtà è un'abitudine scorrettissima, perché quello che noi andiamo a fare con sta roba, pum, è piazzare un tappo davanti ad un ambiente che tende a autopulirsi, ok? E che non dovrebbe stare umido, non dovrebbe stare caldo. Col salva sleep in realtà è proprio quello che facciamo, cioè l'ambiente vaginale come reagisce? Dice, oh mamma, aumento le perdite, io vedo tantissime ragazze che arrivano, perché non lo sapete, comunque io lo faccio sempre quando vi spogliate, guardo le mutande, guardo le mutande per vedere se c'è il salva sleep, ok? Comunque lo chiedo sempre, però in realtà io la prima cosa che faccio è guardare le mutandine per vedere se c'è, e tendenzialmente vi spiego che in realtà portarlo tutti i giorni al di là della mestruzione, ovviamente è un'abitudine scorretta, questo perché si tiene la zona vaginale umida, calda, aumenta il rischio di infezioni, ovviamente, e la vagina tende ad aumentare le perdite. Giuro, nel giro di una settimana, se provate a togliere l'abitudine di mettere il salva sleep tutti i giorni, le perdite si riducono, ok? Perché di solito la risposta delle mie ragazze è quando dicono, hai l'abitudine di usare il salva sleep? Sì perché ho le perdite, quando in realtà magari poi le perdite non ci sono, eh? Quindi cercate proprio di liberare, perché poi ho un'abitudine, no? Quindi cioè ho l'abitudine di metterlo perché mi sento più pulita, quindi cerchiamo proprio di liberarci dell'abitudine, piuttosto se le perdite sono davvero così abbondanti, vi cambiate le mutandine una volta in più, qual è il problema? Ok? Quindi in questo senso cerchiamo di stare un pochino dietro anche a questo discorso, ovviamente gli indumenti, la biancheria intima, come abbiamo già visto altre volte, se fosse in cotone sarebbe l'ideale, grazie, se fosse in cotone sarebbe l'ideale, ok? Quindi questo, non usate indumenti o comunque biancheria particolarmente, cioè con colori particolarmente importanti, piuttosto che tessuti come l'icra, sono tutti quelli di tessuti elasticizzati e non di cotone che possono aumentare ovviamente il rischio di infiammazione, quindi se riusciamo ad usare il cotone è sicuramente molto meglio, ok? Un'altra cosa che volevo dirvi in questo senso è non usate lubrificanti a caso, cioè attenzione all'attività sessuale che per quanto meravigliosa possa essere non è esente da rischi per l'ambiente vaginale, ok? Intanto il discorso del lubrificante, i lubrificanti sono utilissimi soprattutto nei casi di secchezza, piuttosto che per il sesso anale, ma esistono dei lubrificanti specifici, ok? Cioè, non vado a prendere il panetto di burro, piuttosto che, cioè cerchiamo di usare delle cose, perché comunque succede, cerchiamo di usare delle cose specifiche per l'ambiente vaginale, per l'ambiente anale, perché comunque ci sono dei lubrificanti specifici anche per il sesso anale, ok? Quindi di usare un qualcosa di specifico come lubrificante, non usate roba a caso, perché comunque la roba a caso in realtà, insomma, può potenzialmente modificare il pH e predisporre ad un rischio maggiore di infezioni, ok? Io amo molto gli oli, gli oli i più naturali possibili in realtà, questo perché l'olio ha il potere di rendere morbido, di rendere scivoloso, di ridurre l'attrito durante il rapporto, va da sé che non tutti gli oli sono utilizzabili durante il rapporto perché alcuni non sono, grazie Roberta, perché alcuni non sono compatibili col profilattico, ok? Quasi tutti gli oli in realtà non sono compatibili col profilattico, però quando il profilattico non viene utilizzato e questo deve succedere solo quando il partner è fisso e ovviamente non si tratta di rapporti occasionali perché nei rapporti occasionali, altra cosa per far star bene la nostra vagina è usato il preservativo, ok? Quindi i rapporti occasionali, sempre il preservativo, generalmente sono già lubrificati, quindi non c'è la necessità di aggiungere ulteriore roba. In ogni caso gli oli spesso non sono compatibili, ma i lubrificanti a base a cosa sì, ok? Comunque generalmente sul lubrificante c'è sempre scritto è compatibile con l'utilizzo del profilattico, piuttosto che, quindi fate sempre caso anche a questa cosa, ok? Quindi il lubrificante è giusto e il sesso protetto l'abbiamo visto, il sesso protetto è importantissimo perché in realtà utilizzare il profilattico è l'unico modo, lo sapete, per prevenire le malattie sessualmente trasmesse, ok? Partendo dalla candida, arrivando alla gonorrea, alla clamidia, alla sifilide, piuttosto che al papillomavirus, cioè è l'unico modo per prevenire malattie sessualmente trasmesse, quindi l'utilizzo del profilattico nei rapporti occasionali, ragazze, sempre. Cioè, se non ce l'hanno loro, adesso che è periodo di mare, spiaggia, mori, bene, cioè va benissimo, fatelo pure, ma cercate di rispettarvi sempre, ok? Perché comunque è una forma di rispetto che avete nei vostri confronti, nei confronti della vostra salute, nei confronti della salute della vostra vagina, ok? Se non ce l'hanno loro, portateli voi, ok? Quindi due preservativi in borsa, da averceli sempre dietro, in maniera tale da poter far fronte, ovviamente, anche a queste situazioni. Ah, ma no, non ce l'hanno, non usiamolo, nein. Cioè, no, il preservativo, come dicevo, sui rapporti occasionali deve essere usato, ovvio che poi sulla coppia di lunga durata, piuttosto che, allora, c'è una fiducia reciproca, so che tendenzialmente io vengo solo con te e tu vieni solo con me, quindi l'idea di massima non dovremmo avere grossi problemi in questo senso, anche se a volte succede, anche lì. Però, rapporti sempre protetti. Un'altra cosa che volevo dirvi è, riguardo proprio la salute della vagina, in realtà riguarda la depilazione, che è un argomento che forse non abbiamo mai affrontato, nello specifico, però qui si parla più di vulva che non di vagina, non lo sapete che la vulva è quella che sta all'esterno. Io adesso genericamente saranno informazioni su come mantenere in salute l'ambiente, ovviamente vulvare esterno e quello vaginale. Ok? La depilazione, ragazza, è importante, nel senso che comunque, vabbè, ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro. Fondamentalmente di metodo ce ne sono tre, quattro, adesso li vediamo comunque. Intanto la depilazione con rasoio, partiamo da quella più semplice, rasoio crema depilatoria, allora crema depilatoria sulla vulva direttamente non si mette. Con rasoio fate molta, molta, molta attenzione, perché comunque il rischio di lacerazioni, di taglietti, è abbastanza alto, quindi se utilizzate questo metodo, mi raccomando, fate molta, molta attenzione, guardatevi sempre con uno specchio, onde evitare, grazie Gianna, onde evitare di tagliarvi e farvi del male e aumentare il rischio di infezioni, perché comunque quando c'è una ferita aperta, fumma, tutto quello che c'è nel paraggio, ovviamente ci entra. Ok? Quindi questo. Comodo, veloce, però mi raccomando. Altro metodo, la ceretta. Allora, la ceretta in realtà in linea di massima, l'unico rischio che può avere è se vi fate con la ceretta caldo da sole, perché comunque la ceretta caldo è calda, quindi il rischio più grosso legato a questa tecnica, soprattutto se non si padroneggia bene, quindi non fatela da sole, fatela ovviamente da un professionista, da un anestetista, da qualcuno che la sappia fare bene, è quello di bruciature. Ok? Quindi mi raccomando, in questo senso, allora per me è uno dei metodi migliori per depilare la zona vulvare, l'inguine, piuttosto che questo, perché comunque se è fatta bene, fatta correttamente, e non fatta con la ceretta 88 gradi, in realtà, 88 per dire, però non particolarmente calda, in realtà è uno dei metodi migliori, questo perché comunque non si creano tagli, in linea di massima è un metodo abbastanza tranquillo. Ok? Il silkepil, o epilatore elettrico, adesso il silkepil, se voglio fare pubblicità, epilatore elettrico si chiama, lo scoperto, perché genericamente viene sempre chiamato silkepil da tutti, però il silkepil è una marca specifica. Però l'epilatore elettrico, vabbè, anche questo si può utilizzare, però fate molta attenzione, ragazzi, perché comunque è abbastanza aggressivo come metodo, bisogna saperlo utilizzare, e sulla zona vulvare non è indicatissimo, nel senso che comunque, sapete cosa fa l'epilatore elettrico? Cioè ci sono delle pinzettine che strappano i piedi uno alla volta, che girano. Ok? Come sapete, le labbra, le piccole labbra, le grandi labbra, sono morbide, non è come la pelle della gamba, dove comunque andate abbastanza easy, no, con il silkepil. In realtà sulla zona vulvare bisogna stare veramente molto attenta, sarebbe meglio evitare di utilizzare questo metodo direttamente lì. Cioè mi va bene la zona bikini, la zona sopra, quindi tutto attorno, ma il silkepil direttamente lì, no. Uno perché c'è il rischio di pitticarvi e di farvi male, ok? Il rischio maggiore che può dare, al di là della pitticatura e del dolore, è anche quello dei peletti incarniti. Quindi mi raccomando, perché ce ne sono tanti, soprattutto in questa zona, che comunque tende ad essere umida e calda, si incarniscono, che è una meraviglia. Quindi mi raccomando, perché poi se stanno incarniti per troppo tempo, comunque ce ne sono tanti, spesso diventa più difficile toglierli, si formano delle cisti, fanno male, insomma, occhio, ok? Poi ci sono altri metodi che io, devo essere sincera, non conosco nello specifico, tipo il laser, piuttosto che la luce pulsata, piuttosto che, sicuramente questi sono metodi che vanno discussi con l'estetista che se ne occupa, ma non credo ci siano contraindicazioni particolari. Adesso non li conosco particolarmente, quindi vi ho spiegato bene quelli che conosco, ok? Un altro modo per prendersi cura della propria vagina, quindi della vulva, della vagina, dell'ambiente vaginale, ragazze, è conoscerla, ok? Questa è una cosa di cui vi ho parlato tante volte, alla quale tengo particolarmente. conoscerla nel senso che, conoscerne l'anatomia, quello senza dubbio, avevamo fatto un video apposito dove abbiamo spiegato tutta quella che è l'anatomia della vulva, come è fatta, le grandi labbra, le piccole labbra, il clitoride, da dove parte, dove finisce, il perineo, cioè andare proprio a conoscere quella che è la vostra vulva, perché è la vostra? Ok? Quindi è giusto che la sappiate conoscere per poterla anche usare nel modo migliore per voi, no? Quindi il conoscerla, il guardarla anche su uno specchietto, piuttosto che l'esplorarla, il toccarla, il masturbazione. La masturbazione è uno dei modi migliori che voi avete per conoscere quella che è la vostra vulva, la vostra vagina e quello che è il vostro piacere. Perché comunque al benessere della vagina, che è il titolo poi della diretta, contribuisce anche il benessere sessuale, no? Quindi in realtà il conoscerla per poterla usare, per poter capire bene quelli che sono i punti che ci piace stimolare, quelli che invece non ci piace, tutto questo che è una cosa molto importante, perché fa parte proprio del benessere sessuale, ok? E non solo, eh? Del benessere della coppia, del benessere dell'autostima, cioè tutte cose che vi ho già visto quando abbiamo parlato di masturbazione, no? Quindi è molto importante conoscere questa zona per poter esplorare ulteriormente, poter vedere anche nel corso del tempo quelli che sono i cambiamenti legati a questa zona, perché comunque cambia, si evolve, no? Si evolve, cambia, può cambiare in meglio, può cambiare in peggio, dipende un attimino da quello che sta succedendo, però comunque l'inanimastima c'è sempre un'evoluzione a livello vulvare, a livello di quello che è il nostro piacere. Quindi è importante conoscerla, saperla esplorare, per vedere quello che è, insomma, il nostro, esplorare il nostro piacere, ovviamente. E prendetevi cura del pavimento pelvico, che è una cosa che nessuno fa, nessuno fa, nessuno conosce i muscoli, ovviamente ne abbiamo parlato anche altre volte di questo argomento, quindi sapete che per me è molto importante, perché comunque il benessere muscolare di questa zona è prettamente legato al benessere sessuale, quello senza ombra di dubbio, ma è anche legato ovviamente alla contenzione di disturbi, tipo l'incontinenza urinaria, delle feci, piuttosto che i prolassi, piuttosto che... ma il benessere del pavimento pelvico e della muscolatura sono strettamente correlati anche al benessere sessuale. Quindi anche lì, al di là di conoscere l'anatomia della vulva e della propria vagina, manca proprio la muscolatura del pavimento pelvico, saperla riconoscere, saperla attivare, sapere quando c'è una contrattura, quindi quando sono particolarmente contratta, se sono particolarmente rilassata, se dopo il parto i miei muscoli hanno deciso di rimanere flaccidi e non sento più niente, cioè imparate a riconoscere quello che il vostro corpo, la vostra vagina vi stanno comunicando, perché comunque lo fanno, ok? A modo loro, ogni donna a modo suo, ma comunque lo fanno, quindi questo è importante. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi riguardo all'attività sessuale, allora spesso ovviamente, come giusto che sia, si sperimenta, ok? Si sperimenta, si fanno delle cose che a volte uno non ci ripensa, diciamo che caspita, divertenti sicuramente, come giusto che sia, ma i cibi messi in quella zona, soprattutto se parliamo di cioccolato, crema chantilly, roba particolarmente da panna, piuttosto che e comunque sono cose che non si fanno, ma in realtà non sapete che non fa proprio tanto bene, ok? Uno, perché non sono fatti per stare là, punto secondo per l'alto contenuto di zuccheri, ok? Sono ovviamente cose particolarmente zuccherate, che come sappiamo l'ambiente vaginale non vanno tanto d'accordo, ok? Rischiamo di alterare il pH e rischiamo di crearci delle infezioni, in questo senso, oltretutto alcuni alimenti possono non essere proprio compatibili, creare irritazioni anche esterne, cioè, attenzione a queste cose, se volete utilizzare roba con un gusto, piuttosto che sappiate che ce ne sono tante di specifiche e studiate proprio per quello, andate nei sexy shop, guardate che vi si aprirà un mondo, ok? Allora, a me sembra di avervi fatto un pochettino un ricapitolo di tutto quello che serve per mantenere l'ambiente vaginale in salute, ovvio che se avete altre domande, altre cose da chiedere, altre curiosità, io sono qui, come al solito non fatevi assolutamente problemi, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo alla prossima diretta, ciao a tutti!